Riapre l'impianto sportivo Le Naia di tante le difficoltà incontrate ci ha tenuto il presidente della società che ha di fatto avuto l'incarico di gestire la struttura per i prossimi vent'anni, il club acquatico, a ringraziare la regione Abruzzo. Il prossimo weekend, sabato 14 e domenica 15, ci sarà l'open day. Lunedì invece è previsto il taglio del naso alla presenza del presidente della regione Marco Marsilio. Tra gli investimenti dopo la prima fetta in urgenza necessaria a traghettare l'impianto? La seconda fase sarà quella della vasca 2516 che va assolutamente definitivamente risolta e quindi risolte le percolazioni che vi sono. La terza fase sarà quella degli investimenti che abbiamo proposto nel bando di gara che ci vede a Giudicatari e che ammontano a 3 milioni e 200 mila euro. Da oggi siamo nella gestione definitiva ventennale. Qual è la situazione dei lavoratori? La situazione dei lavoratori è quella che con l'avvio del bando ventennale c'è il riassorbimento in base alla claustra sociale. Quindi verranno tutti chiamati, saranno utili, sempre che non hanno provveduto a cambiare idea o lavoro. Però insomma noi li aspettiamo, non abbiamo avuto contatti se non con alcune persone che già da domani verranno contrattualizzate e che già da subito saranno il 45% della forza lavoro originaria. La gestione delle naie di onerose, questa non è certo una notizia. Ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare per facilitare l'ingresso di una società dopo che i tentativi con i vari project financing avevano disatteso le aspettative. Ribadisce sostanzialmente una soluzione studiata a tavolino mesi fa il presidente del Consiglio regionale Sospiri, che oggi semplicemente si concretizza. Dandogli il tempo per poter trovare sul mercato finanziario del credito agevolato sportivo la capacità di fare gli ingenti lavori, che ricordo sono alcuni milioni di euro alla fine di un percorso, necessari alle naie di per essere un impianto che la stessa federazione degli Ananuoto ha giudicato in queste condizioni non sostenibile. Quindi io innanzitutto permettetemi di fare un in bocca al lupo al club acquatico, che è l'unico che si è voluto assumere l'onere di partecipare a più evidenze per l'amore che ha per questa attività sportiva e per l'impianto. E credo che tutti quanti, tutti quanti, dobbiamo cercare di sostenere, aiutare e proteggere l'unico fatto che conta, e che le naie di stanno riaprendo.